Buonasera ragazzi, anzi giocatori delle infinite possibilità! Buonasera, grazie di essere qui. Mi piace tanto giocare con questi strumenti e creare facilità e facilitare la nostra vita. Grazie agli strumenti di Access Consciousness. E se siete qui in realtà siete interessati anche voi a questo, quindi come può essere di così? Aspetterò che vi colleghiate per vedere cosa si moscerà stasera. Ciao! Inizierò a guardare anche dal telefono così che possiamo renderci conto. Ah, in 5, ottimo, ciao ragazzi! Ciao Antonietta! Vediamo cosa possiamo creare stasera. Ah, che bello vedervi! Grazie che vi salutate così io posso vedere i vostri nomi. Aspettiamo due secondi e iniziamo. Cosa vi porta qui su questi colli digitali? Lo so che sono digitali. Ma che fortuna riuscire a essere anche in formato digitale insieme. E' un po' quello che ci ha contribuito in questi ultimi due anni. Riuscire a comunicare, a esserci gli uni per gli altri, anche a distanza. E in realtà sappiamo di essere infiniti, quindi non essere separati. Ma anche vederci a livello digitale, nonostante siamo tutti uno, è di grosso contributo. Ciao ragazzi, sono felice di avervi qua. Grazie che mi salutate così che anch'io veda i vostri nomi. E come può essere ancora meglio. Tanti di voi siete nuovi qui su questo gruppo, quindi vi do il benvenuto e vi do il benvenuto a più facilità, a più gioia e a più gloria come esuberanza di vita nella vostra vita appunto. In questo gruppo insieme giochiamo con le infinite possibilità. Il nome del gruppo rispecchia quello che esploriamo insieme. E oltre alla serie che stiamo facendo adesso, nelle quattro puntate, in realtà avete, penso tipo a sto punto, più di 60 video. 60 video gratuiti che potete trovare nella parte degli argomenti da approfondire su qualsiasi cosa, sulla creazione, sulle domande. Tutto il mio lavoro in realtà è incentrato sugli strumenti di Access Consciousness perché sono gli strumenti che davvero mi hanno contribuito a cambiare qualsiasi aspetto della mia vita. Sono strumenti che conosco da 10 anni e che uso personalmente nel mio quotidiano e vedo comparire magie. Ecco qua che vi invito a scegliere facilità utilizzando gli strumenti. E vi ricordo che non sono gli strumenti a creare magia quanto voi e voi scegliendo la facilità utilizzandoli. Potete creare magie anche senza questi strumenti. Ma quanto è più facile se li usiamo? È un po' come possiamo demolire un muro anche con il dito. Ma quanto ci mettiamo? Ci mettiamo magari 10 anni invece con un bulldozer lo sventriamo subito, lo distruggiamo subito. Quindi questa è l'unica differenza, la facilità e la pragmaticità di questi strumenti applicati alla vita quotidiana. Perché è bello, sì, tutte le filosofie, è bello, come dire, tutte le cose mistiche, tutte le cose wuhu, ma poi come le portiamo nella nostra vita quotidiana, con i nostri cari, nella nostra sfera finanziaria. Questo è in realtà uno degli obiettivi di Access, avere faccita nel quotidiano e creare la vita che davvero desideri come una cosa molto pratica, non tanto quanto un concetto mistico. Quindi sono felice di avervi qua, adesso entriamo nel merito della nostra diretta, sono felice di avervi tutti qua. Vi saluto tutti, la registrazione rimane nel gruppo, quindi ce l'avete a disposizione, non vi preoccupate. Spero che mi si senta bene, se mi confermate questo possiamo davvero entrare nel merito. Se siete qui è perché siete interessati a creare ricchezza, in realtà vi ho un po' manipolati, nel senso parlando di denaro e parlando di ricchezza. In realtà sono insieme e non sono insieme come argomenti. Quello che ho notato nel corso degli anni, mettendo a frutto questi strumenti e vedendo, interagendo e facilitando tante persone, è che in tanti sono solo interessati ad avere più soldi, ma pochi sono interessati veramente ad avere ricchezza. Qual è la differenza? Cos'è che rende una persona ricca? E cos'è che rende una persona povera? E ovunque vi siete definiti in un modo piuttosto che un altro, chissà quale altro ancora, che vi impedisce di avere totale facilità con la vostra realtà finanziaria, volete per favore distruggere e scrivere tutto? Grazie, è giusto e sbagliato, bene o male, può da un po' con noi, shorts, boys, boys and beyond. Se non avete familiarità con questa frase, dice che cacchio sta dicendo bianca, è comprensibile. E' la frase di pulizia di Access Consciousness che potete tranquillamente trovare in questo gruppo. C'è una diretta di un video YouTube di Dain Heer che la spiega. Comunque la rimetterò anche nel gruppo così che ce l'abbiate a disposizione. Qualcuno dice, la disponibilità di avere soldi? Cos'è che rende qualcuno ricco e cos'è che rende qualcuno povero? Le possibilità che ha a disposizione? Il mondo che per uno è facile e per l'altro è crudele? Infatti la disponibilità di avere soldi è un grosso elemento per creare ricchezza. Non a caso è proprio il primo elemento per creare ricchezza di cui parleremo. Avremo quattro dirette insieme a cadenza settimanale. Quindi non ci sarà quattro video di fila. Ci sarà una settimana a intercalare tra una puntata e l'altra. Quindi avrete modo di rivedere la diretta e di mettere a frutto gli strumenti di cui parliamo in queste dirette. Che le dite? In più è estate. Quindi siamo rilassati e usiamo gli strumenti con totale facilità applicandoli alla quotidianità. La cosa che mi diverte tantissimo è che tanti hanno la concezione sì, vuole avere soldi, ma che magari non ce l'hanno in principio. Non ne hanno tanti in principio, no? Sì, vuole avere tanti soldi e li vuole avere subito. E tutto quello che in realtà è lento non mi interessa. Che divertente. L'ho fatto anch'io in realtà. Una cosa che contraddistingue forse se conoscete da tanto Axel. Comunque ci sono in grande linea due tipologie di persone. Su questo pianeta persone che adorano il cambiamento e sono sempre disposte a cambiare. e persone che se non cambiano niente tranne il colore dei capelli per 30 anni sono comunque felici. Beh, se siete qui su questo gruppo probabilmente fate parte della prima categoria. Sempre alla scoperta, sempre interessati al cambiamento, sempre interessati a creare e allo stesso tempo davvero impazienti. Nel senso che faccio questa cosa per una volta sola e tutta la mia vita cambierà. Quanti di voi vi siete ritrovati in questa situazione? O nel pensarla così? Tipo, ok, uso questo strumento e diventerò ricco all'improvviso. O quanti promettono il fatto di diventare ricchi all'improvviso? Sì, se fai questo per una volta questo corso ti cambierà la vita e diventerai ricco il giorno dopo. E se non succede dici Mazza, non funziona. E cominci punto a capo. Cioè, costruisci e distruggi e dici, vabbè, questa cosa non funziona. Ora vi faccio notare una cosa. Se piantate un seme di qualsiasi pianta persino dell'erba il giorno dopo è già cresciuto da frutti? Se qualcuno dice sì dico su quale pianeta abita? Ok? Quindi piantate il semino che può essere un'informazione una domanda uno strumento e fate una scelta quello di usarlo o di fare una scelta nel ok, cambio la mia realtà con il denaro o cambio la mia sfera finanziaria lo piantate e lo hanno affiate mattina e sera o solo mattina non so, non sono un giardiniera non ho tanta non sono un pollice verde però mi piacciono le piante e l'esempio di questo si applica tremendamente bene a qualsiasi area della nostra vita ok? Quindi piantate questo semino e vorreste avere una pianta o l'albero no? Piantiamo un semino con l'idea di creare qualcosa per il futuro non nell'immediato anche perché se fossimo interessati solo nell'immediato il fatto che la piantina non cedìa i frutti il giorno dopo non avrebbe senso crearlo no? Per piantarlo perché dici vabbè io voglio mangiare il mango domani piantina perché non mi fai semina perché non mi dai il mango il giorno dopo brutto stronzo come sarebbe in realtà rendersi conto della follia che stiamo applicando nelle nostre vite che in realtà ci impedisce dal creare qualcosa veramente diverso nella nostra vita e che dia i suoi frutti cominciando dal presente e ancora di più nel futuro la follia di questa realtà in cui la società diciamo chiamiamola società è che nessuno si concede lo spazio di pensare al futuro perché siamo come tutti strangolati in preda all'ansia pensando di non riuscire preoccupandoci del fatto che non riusciremo ad andare avanti o di sopravvivere nel presente tante volte tante volte mi è successo di sentire conversazione tipo e vabbè ma quello è tipo tra un mese io intanto devo preoccuparmi di cosa metto in tavola oggi quanti di voi funzionate da un ritmo un ciclo tipo ok da una giornata a una settimana ma soprattutto un ritmo mensile di guadagni guadagni spese che combaciano quasi sempre con lo stipendio o peggio adesso come adesso e nel momento nell'epoca in cui viviamo in realtà si va anche sotto lo zero no questo ciclo folle del entrate uscite entrate uscite entrate uscite e si riparte sempre dallo zero il prossimo mese come se aveste cancellato tutto il tempo precedente tutto quello che avete creato precedentemente è un po' come piantare un seme ciao mosca si ci sei beh piantare un seme e non te ne frega tanto la piantina ma vuoi spronarla a crescere in un in qualche giorno prendere i suoi frutti venderli al mercato e poi chi se ne frega buttiamo la pianta anche se in realtà e si ricomincia con un'altra pianta il mese dopo anche se in realtà i primi frutti di una pianta magari non sono così eccellenti ma sono quelli del secondo mese del terzo mese il quarto mese anche perché stai diventando sempre più esperto nel coltivare la piantina nel prenderti quello di essa del darle amore darle risorse come sarebbe se ci permettessimo la stessa cosa non solo con i soldi ma anche nel modo in cui ci poniamo nella nostra vita essere si disposti a prenderci cura del nostro presente sempre riferendosi al futuro tutto quello che stiamo creando tutto quello che state scegliendo crea il vostro futuro sia che guardiate nell'orticello di un mese sia che guardiate sempre in quel che sempre il futuro nelle vostre scelte una domanda che è ritornata molto predominante nel mio mondo recentemente è quale scelta posso fare adesso per cui la me tra dieci anni sarà grata o che creerà la vita che io vorrei tra dieci anni come sarebbe non comprarci la bugia che non ce la faremo per questo mese che in realtà ci mantiene nel loop della mancanza e ovunque l'abbiamo fatto e siamo stati questo vogliamo per favore distruggere e creare tutto? grazie è giusto sbagliato bene male poi do un po' che non mi ha short poi spovas e beyond sapete perché so che è una bugia? semplicemente perché siete ancora qua non siete morti di fame e neanche state sotto un ponte e avete un cellulare o al come minimo un cellulare o un computer da cui state guardando questa diretta la stragrande la stragrande maggioranza delle cose preoccupazioni pensieri che vi passano per la testa sono delle merite cazzate mi dispiace ma se non vi servono in alcun modo per creare qualcosa di diverso di più grandioso per il presente e per il futuro che ci fanno ancora là che ci fanno ancora là se i vostri pensieri non sono di contributo nel creare un futuro diverso che sia anche tra un mese e tra un anno che ci fanno ancora nella vostra testa dovete essere presenti e disciplinati e persino aggressivi con quello che vi passa per la testa perché se non vi è di alcun servizio fuori come le persone quante persone avete nella vostra vita che non vi contribuiscono affatto e non parlo proprio di familiari che i familiari non li puoi far tagliare fuori dalla vostra vita anzi con i familiari ci puoi puoi lavorarci ma le persone che non c'entrano niente neanche con la vostra famiglia e non vi sono di alcun contributo per cosa li tenete nella vostra vita per assicurarvi che rimarrete uguali e non cambierete mai e ovunque non siete disposti a essere aggressivi allo stesso tempo protettivi della vostra vita del vostro futuro e di quello che potreste creare con la vostra vita volete per farvi distruggere e screare tutto grazie è giusto sbagliato bene o male poi non potete noi short ways poverti in beyond e qua in realtà arriviamo anche ai soldi il punto è che tutte le aree della nostra vita sono davvero interconnesse se non si funziona se non si dà una priorità a noi a quello che vogliamo creare siamo in balia di quello che vogliono gli altri o di quello che vuole la società di quello che ci vendono come mentalità ma quando rendiamo noi la nostra priorità noi stessi la priorità e quello che in realtà vogliamo creare per il futuro lì siamo aggressivi con quella cosa nel senso che cazzo le cose iniziano a girare diversamente ecco perché certe persone creano tanto nella loro vita o creano tanto persino entro i 30 anni perché magari hanno un sogno o un'idea e non mollano fin quando cazzo io so che quella cosa si manifesterà si presenterà ma non è solo e altri in realtà tipo vabbè ci credo ma non ci credo ma forse non è poi così importante poi chi mi credo di essere forse dovrei ascoltare mio padre forse non è proprio vero quello che penso io non lo sarà se non ci credi fino in fondo o se non lo scegli e soprattutto se non lo scegli te tante volte nella mia vita mi sono trovata a guardare a destra e a manca e nonostante io avessi una visione della mia vita cioè delle possibilità della mia vita molto più grandiosi rispetto a quello che mi circondava non ritrovandolo nel mio nei miei dintorni dice ok sono sbagliata magari sono pure pazza tipo chi mi credo di essere pure davvero pensi che potrò mai essere ricca o davvero cioè ti pare guarda guarda la gente intorno a te non so se vi è mai capitato a pensare così ci vuole coraggio coraggio a riconoscere che qualsiasi cosa abbiate come scintilla nella vostra vita può essere se scegliete e siete pazienti e desiderate e vederlo veramente nel mondo e al di là di qualsiasi progetto o al di là di che ne so un'idea un'invenzione non si tratta neanche di questo ma di come vorreste che fosse la vostra vita se non doveste avere come riferimento o punto di riferimento nessuno nella vostra vita cosa scegliereste per la vostra vita se foste nati oggi cosa scegliereste per la vostra vita e forse questo è l'elemento chiave su cui si basa anche la la ricchezza la ricchezza finanziaria la ricchezza uno stile di vita diverso avere chiarezza con ciò che si vuole perché altrimenti appena passa una folata di qualche follia generale come è successo in questi due anni si viene trascinati e diamo ragione a qualcuno piuttosto che un altro o diamo torto a qualcuno piuttosto che un altro ma se non fossimo impegnati a dare torto o ragione a chiunque e a nessuno in realtà cosa sceglieremo per noi cosa chiederemo per noi come vorremmo che fosse la nostra vita e da lì vedere le priorità tipo ok nella mia vita quali sono gli elementi che vorrei nella mia vita e anche se inizialmente dice vabbè non me lo sono mai chiesto che cacchio ne so non ho idea non importa ecco perché le domande vi vengono vi vengono a servizio cacchio fai una domanda proprio perché non sai la risposta cioè la tua mente non lo sa tu lo sai quindi iniziando a chiedertelo spunteranno idee ispirazioni persone che ti mostreranno cose che non mai pensavi potessero esistere e lo riconoscerai proprio perché combacerà con la tua richiesta so che sembra magia in realtà lo è ma è perché avete chiesto chiedere è lo strumento chiave per tutto ok quindi diciamo io inizierei proprio dal chiedere a cosa vorrei che assomigliasse la mia vita se non ci fosse niente intorno a me se non esistesse l'Italia perché tutti dai ma siamo in Italia le cose qui non crescono che domanda è questa ci sono sia persone ricchissime che poverissime in Italia giusto come ci sono ovunque persone ricchissime persone poverissime cosa hanno di diverso due teste cinque braccia o che magari non sono scesi a compromessi o chissà cos'altro cosa scegliete voi per la vostra vita quale realtà scegliete di creare la vostra o di avvalorare qualcuna di qualcuno che non è neanche così geniale però è più più preponder più urla di più e tutto ciò che è venuto su con questo vogliamo per favore distruggere le screle e tutto grazie giusto se sbagliato bene o male poi non po' tutti i nuovi shorts boys pova zambionza lo so che è una una conversazione forte magari non ve l'aspettavate diceva vabbè un altro elemento è creiamo ricchezza sì adesso domani diventerò ricco cosa ci vorrebbe so essere disposta ad essere ricchi già da domani e cos'è che vi rende ricchi i soldi che possedete o la scelta di essere ricchi la scelta è gratuita non sono le altre cose a rendervi non sono le cose a rendervi qualcosa a qualcuno siete voi con le vostre scelte ma ci vuole chiarezza ci vuole perseveranza ci vuole aggressività con quello che si sa non nel fare o nel dire o essere ok non si tratta di picchiare gli altri per favore non fate e poi dite oh è bianca che non so di picchiarti no state a bada ok energeticamente e lo sapete essere semplicemente avete fatto finta di non saperlo perché era comodo non farlo era meglio valorare la realtà degli altri piuttosto che imporre la propria almeno del vostro mondo ci sono tante domande e tante considerazioni spero di riuscire a vedere che dice a volte sono uscite eh lo so che a volte ci sono solo le uscite mannaggia loro più uscite che entrate mi rendo conto quanto sono grata a me di 13 anni fa sono felice mamma Anna Maria di Giorgia dice tra 10 anni avrò 70 anni fantastico come sarebbe se il tempo non fosse rilevante allo stesso tempo pensa a te tra 10 anni come sarebbe se fosse come sarebbe se fossi grata per te di 10 anni prima cosa puoi creare adesso per cui te a 70 anni radiosa e felice sarai grata non esiste un limite e allo stesso tempo ci sono persone che davvero diventano famose o ricche a 90 anni o a 100 l'unica cosa è il punto di vista che sia possibile o meno ah anzi non solo di 13 anni fa ma a me da sempre ottimo magia la tosse il video si blocca spesso spero di no fatemi sapere come sta andando per tutti se si blocca vediamo cos'altro è possibile ok quindi il primo elemento per creare ricchezza una volta che fate una scelta di essere ricchi non soltanto di avere soldi uno uno direbbe ah cos'è che vuoi avere se potessi avere tutto cosa avresti un milione di euro si magari da prima non aveva neanche mille euro e vuoi un milione di euro il giorno dopo a volte dico però ok non dico non è possibile ma cosa dovrebbe cambiare affinché tu potessi permetterti di ricevere un milione di euro e allo stesso tempo quali scelte creerebbero questo quali scelte creerebbero un milione di euro sono felice che si veda bene ehi anche il profondo sud e uno di questo è essere disposti ad avere soldi e lo so direte e beh c'era scritto nel titolo lo so e poi non è scontato tanta gente dice di volere soldi ma non è disposta ad averceli appena chiedi ah cosa faresti con centomila euro o con un milione molti neanche lo sanno sembra solo una bella idea tipo ah sarò ricco e non avrò più preoccupazioni è fico posticipare qualcosa che puoi scegliere già adesso come sarebbe se lo scegli ora scelgo di essere ricco e scelgo di non preoccuparmi più come sarebbe se la scelta fosse quella che crea la ricchezza per te anche finanziaria è la scelta che viene prima di essere senza preoccupazioni essere sereno e avere soldi non sono i soldi o la ricchezza che ti garantiranno questo altrimenti viviamo sempre in un loop nel posticipare 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 e quando è che avverrà quel giorno in cui sarete senza preoccupazioni e super ricchi a bocchi a bocchi lo sa tutto quello che avete posticipato finora come sarebbe sceglierlo adesso potete dirlo insieme a me scelgo di essere ricca e senza preoccupazioni scelgo di essere in pace con i soldi e scelgo di essere disposto ad avere soldi e non ci dovete credere basta scegliere bene adesso che l'avete fatto cosa è richiesto per avere questo e anche oltre di te ma non sono a comparsi già i soldi nelle mie mani sì magari compariranno domani in realtà avete già dato inizio alla creazione di questo perché già avete scelto quegli elementi che renderanno possibile questo vi state già incamminando non posticipate il viaggio tra tre anni ma l'avete già incominciato e ci arriverete se ci mettete ostacoli ci metterebbe ci mettereste un pochino di più se non li mettete ve li sgomberate da davanti ci metterete di meno sareste disposti ad avere facilità nel creare questo bene come può essere ancora non è di così e in questo in realtà gli strumenti di access consciousness possono aiutarvi in realtà facilitarvi incredibilmente non avete bisogno d'aiuto non avete mai avuto bisogno d'aiuto siete perfettamente in grado di fare tutto riconoscetelo sceglietelo e al massimo potete chiedere contributo wow cosa mi contribuirebbe ad avere queste anche oltre chi può contribuirmi cosa può contribuirmi Daniela dice io mi sento ora come quando fai il sonnellino e ti senti in pace sono felice più di questo più di questo rilassamento e pace ragazzi davvero allora io ovviamente non sapete i miei trascorsi non sapete il mio passato e forse anche non è tanto rilevante però per dare un contesto a questa conversazione io ho sempre avuto la il pallino del voglio essere di successo ma comunque da bambina sognavo mestieri come direttrice di banca o avvocato questi sono i primi mestieri che ricordo semplicemente perché percepivo di voler essere ricca ma non avevo alcun punto di riferimento tranne questi mestieri per cui sarebbe stato possibile diventare ricca no e quindi guardavo intorno non avevo alcun parente ricco quindi avere tangenza con quell'energia non era possibile eppure c'era c'erano delle cose delle scelte delle energie che per esempio mia nonna aveva e era che era un invito per qualcosa di più come se quella roba è possibile semplicemente non è disponibile adesso per noi adesso e questa roba mi è rimasta nonostante fossi cresciuta nonostante mi fossi trasferita dalla Romania all'Italia quando avevo 13 anni cioè siamo venuti in Italia non perché eravamo ricchi semplicemente perché eravamo in difficoltà finanziaria altrimenti chi è che lascia il proprio paese oddio ci sono pure persone che lasciano il proprio paese per divertimento ecco non eravamo tra quelli era tanta densità non abbiamo soldi quindi andiamo da altrove come se l'altrove fosse una promessa di ricchezza e infatti non l'è stata semplicemente ci si ci si prende gli stessi punti di vista che si aveva prima si aggiungono altri tra cui anche inferiorità oppure vedi sono povero sono dovuto venire qua quindi ci si fa cioè peggiora pure la situazione ok per alcune persone noi eravamo una via di mezzo almeno per un po' e a un certo punto risale questa cosa comunque era rimasta anche in famiglia mia madre tipo ok c'è qualcosa di più scopriamolo cos'altro 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 e due anni dopo letteralmente due anni dopo da che ero in Italia compare Access Consciousness nella nostra vita quindi nel 2009 e lì mi ricordo ah ci avevano detto la frase di poesia come una bacchetta magica io all'epoca avevo 15 anni quindi ci ho creduto nel senso aha c'è una bacchetta ma lo sapevo lo sapevo che ci sarebbe che esisteva una bacchetta magica e da lì è venuto sempre più predominantemente la possibilità che io sempre saputo esistesse tipo di creare la mia vita come la volevo anche se comunque intorno a me non c'era sta roba ok lo chiedevo sempre più anche se non avevo i soldi per tanto tempo mi sono invitata riguardo ai soldi qua non mi posso permettere questo non mi posso permettere questo ma indovinate cosa se vi dite di non potervi permettere una cosa non ve lo potete permettere e non ve lo potrete permettere per avere qualcosa bisogna fare scelte diverse e dirsi cose diverse piuttosto che non me lo posso permettere chiedersi ok come posso permettermelo cosa ci vorrebbe percepite l'apertura in questo bene se questo è avere soldi lo scelgo sì esatto fare la domanda aprirà sempre vi potenzierà sempre nell'avere nuove possibilità e nel ricevere le cose che state chiedendo se vi precludete dal principio le cose ve le sarete precludi e basta cioè tipo ok quante volte perché c'è nel senso in access dice la domanda potenzia sempre la risposta di potenzia se qualcuno mi dice io lavoro con le domande intendiamoci come fa citatrice io lavoro con le domande perciò se qualcuno mi viene a dire tipo ah bianco questo problema mi racconta una storia magari prima dice ok adesso ascoltavo per dieci minuti adesso dico ok non per cattiveria ma quella è una storia ok quindi ve lo dico anche in pole position qua qualsiasi storia voi vi stiate raccontando o problema voi vi stiate raccontando è solo una storia yay se desiderate cambiarla allora dovete essere disposti a fare una domanda perché se non fate una domanda è come se avessi un muro davanti ma ce l'hai tu e io non posso scavalcarlo perché tu te lo sei costruito quindi il primo passo per cambiare qualsiasi cosa è fare una domanda la domanda che apre porta possibilità e fa sì che le cose cambino davvero ok quindi tutto questo per dirvi che ci sono voluti un pochino danni soprattutto di limitazioni per fino a quando non mi sono rotta le scatole ho scelto la classe della fondazione a dispetto cioè nel senso nonostante in quel momento non avevo i soldi avevo 20 anni ero squattrinata però il cambiamento che la fondazione aveva creato in mia madre nella vita di mia madre ho detto ok cacchio se questa classe ha creato questo nella vita di mia madre non so cosa sia ma lo voglio anch'io non so cosa sia sta classe ma lo voglio anch'io lo scelgo tempo neanche forse massimo 4 mesi stavo facendo la fondazione e lì mi sono resa conto della potenza della mia scelta io ho iniziato a scegliere sempre più tipo ok scelgo questo scelgo questo scelgo questo scelgo questo e possibilità sempre più si apriva e comunque essere diversi in un mondo in cui tutti sono uguali cioè tendono a essere uguali o vogliono essere uguali per non risaltare prendendo i punti di vista sui giovani che si avevano diciamo un po' mi sono resa ancora patetica sul fatto di quanta ricchezza potessi veramente avere ma puntualmente c'erano facilitatori access in giro per il mondo anche giovani che mi mostravano una realtà totalmente diversa ho detto aspetta un attimo perché loro si e io no? questa non è una domanda ve l'assicuro ma comunque tipo wow che ispirazione se per loro è possibile anche per me lo è lo scelgo pure io e scelta dopo scelta dopo scelta anche ovviamente in merito al ambito finanziario le cose si sono accelerate sono diventate sempre più facili e adesso davvero vivo la vita dei miei sogni è stata una creazione però è stata una scelta dopo scelta dopo scelta bagnare la piantina ribagnare la piantina dare amore alla piantina infatti anche mia madre dice la piantina sta crescendo per bene bagnare la piantina darle attenzioni mettere il giusto sole rimettere l'acqua la piantina rimettere l'acqua la piantina non demoralizzarsi anche se magari una foglielina si ingialliva molto spesso quando le cose vanno un po' male nella nostra vita o non come ce l'aspettavamo oh mio dio sto morendo vedi ingiallita ma la si bagna la si ama la si bagna la si ama il giusto sole la si mette dentro se piove troppo o se fa gelo ok questa cura come sarebbe avere questa cura verso se stessi e forse verso noi stessi verso la nostra vita verso quello che stiamo creando per cambiare vite di inconsapevolezza o di povertà magari qualche anno di pazienza è di scelta presente consapevole è richiesta giusto e comunque ce la si può spassare tantissima infatti non è che ho sofferto questi anni semplicemente se l'ho permessa di creare molto di più passetto dopo passetto passetto con tutte le resistenze che avevo non è che è stato facile tutto facile ma quando ho fatto una scelta adesso sottolineo una scelta che ho fatto che in realtà riguarda questo elemento della ricchezza le cose sono diventate cioè hanno messo la quarta ok tipo speedy gonzalez tipo wow tipo ok universo se questo è possibile cos'altro è possibile e devo dire che davvero la scelta di impegnarsi con la propria vita e non svignarsi la pena le cose si diventano intense è essenziale qual è stata la scelta che ha messo l'acceleratore nella mia vita anche finanziaria il 10% per chi non conoscesse lo strumento del 10% è praticamente uno dei modi più pragmatici e pratici del onorare la propria vita e onorare se stessi prima di chiunque altro o qualunque altra cosa si tratta di mettere attivamente 10% di tutto quello che si guadagna il grosso non il netto quindi prima ancora di tutte le altre spese appena si guadagna qualcosa si mette nel 10% è uno strumento che ha rivoluzionato la mia vita ma tipo è stato nero su bianco il cambiamento è stato pazzesco l'esservi impegnata con me stessa prima di tutto lo si fa con il denaro semplicemente cioè anche e soprattutto perché è la maniera più pratica anche di riabituare la mente di funzionare in maniera diversa se non doveste spendere tutti i soldi che avete ma rimanesse sempre quel 10% con voi che non toccate starete creando la disponibilità di avere soldi non soltanto di averli per spenderli per usarli per utilizzarli per qualcos'altro la tendenza che abbiamo è di ricevere soldi e non essendo abituati ad averne li spendiamo subito anche se è una somma molto grande non so se vi ricordate queste queste storie di gente che riceve una grossa eredità o vince la lotteria che dopo poco non hanno più soldi anzi sono sempre più indebitati anzi hanno consumato tutto e sono andati ancora più basso semplicemente perché non erano abituati non erano veramente disposti ad avere soldi ma sono andati fuori di testa fuori controllo non essendo abituati ad averli ma solo a spenderli hanno fatto fuori tutto alla base c'è l'onorare se stessi che il 10% rappresenta ci sono ragazze che già lo stanno facendo fantastico e so che in realtà in questo gruppo ci sono parecchie persone che stanno facendo il 10% sono molto felice di questo e si tratta anche come lo si fa ok nel senso con quale spirito lo si fa lo si fa perché si deve perché abbiamo imparato che è una cosa giusta da fare o lo si fa come una scelta di onorarsi come una gioia di wow ho soldi il 10% per il fatto che non lo spendi crea quella sensazione e quella percezione tangibile ce lo puoi toccare vedere toccare con mano cacchio io ho soldi non posso più mentirmi sul fatto che non ho soldi non è più possibile far cioè anche se la mente dice oh mettiamo abbiamo soldi e lo mente guarda cazzo scusate il francesismo abbiamo soldi quante volte ogni giorno vi state dicendo che non avete soldi o non avete abbastanza soldi cosa crea la mancanza di soldi e che non avete abbastanza soldi hello il 10% è anche una dimostrazione ulteriore anche per la vostra mente che avete soldi e che ce l'avrete sempre e che creerà sempre di più crescerà sempre di più e che vi onorerete sempre di più dopo aver provato tantissime volte di fare questo benedetto 10% non riuscendoci mai perché lo vedevo come una privazione e puntualmente dovevo arrivare allo zero prima di permettermi di crescere di nuovo finanziariamente non andavo avanti andavo avanti facciamo un passo e due un passo avanti e due dietro un passo avanti e due dietro avanzavo ma non avanzavo veramente ero puntualmente allo zero e l'ho fatto anche quando avevo tantissimi soldi sono arrivati tantissimi soldi nella mia vita perché comunque li stavo creando e mi sono sentita come un assetato nel deserto che riceveva l'acqua tanta acqua dopo tanto tempo e li ho spesi tutti e li ho pure persi mi sono stati rubati per poi rendermi conto da quale spazio stavo creando questo e lì con pazienza facendo delle considerazioni uscendo fuori dal dramma di tutta questa situazione perché il dramma non vi aiuta ragazzi so che avete l'idea che vi possa aiutare ma il dramma non aiuta nel 2019 ho fatto questa scelta tipo cacchio so che il 10% creerà questo per me questa pace con i soldi questa disponibilità con i soldi questo rilassamento con i soldi e spazio per creare di più lo scelgo lo scelgo cacchio vedo esempi concreti di persone che hanno stravolto la propria vita facendo questo 10% l'unica cosa tra me è loro che io non lo sto facendo quindi lo scelgo il 10% e poi leggo il vostro commento i vostri commenti è un po' come respirare cioè mettiamo caso che i soldi sono aria no? ispirate ed ispirate nel frattempo che ispirate di nuovo ed ispirate di nuovo comunque una parte di aria rimane sempre nel vostro corpo non lo ispirate tutto una parte c'è nel vostro sangue la stessa cosa avviene con il 10% ricevete denaro spendete denaro però intanto che ne arriva altro ce l'avete ce l'avete dentro il vostro corpo fa parte di voi fa parte della realtà che state creando in realtà è finanziaria diversa parte anche dal fatto di essere disposti ad avere denaro quanto anche del piacere di avere denaro non soltanto dallo spenderlo la maggior parte delle persone vogliono soldi solo per spenderlo ma quanto in realtà questa voglia di spendere parte da una mancanza di base il che non invita più denaro nella vostra vita anzi lo fa scappare se i soldi sono energia e voi la trattate in questa maniera tipo la voglio solo per usarla tipo che voglia potrebbe avere qualcuno cioè se paragoniamo i soldi a qualcuno che voglia potrebbe avere quel qualcuno a venire nella vostra vita in realtà questo è un po' una parte esterna ma sotto sotto nella 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 vostra vita a quale su quale posizione vi mettete siete al primo posto anzi siete al decimo posto al nono posto siete fortunati vi mettete al terzo posto se vi metteste al primo posto come cambierebbe ogni area della vostra vita incluso i soldi e so che direte ma sono i miei figli a essere il primo posto e il mio porcellino d'india a stare sul primo posto sono altre cose più importanti si sono importanti ma chi è che crea il denaro tu o il porcellino d'india chi è il creatore sei tu e se onori te ci sarà sempre più spazio per creare altro denaro per fornire risorse anche al porcellino d'india ok e tutto ciò che è venuto su con questo è andato giù volete per farvi distruggere e creare tutto grazie giusto sbagliato bene male poi non po' te noi ho scelto su espo va zembion leggiamo un po' i commenti e poi vediamo cos'altro possiamo aggiungere porca puttana 53 minuti maria stella dice anche io sto facendo davvero così con la mia piantina a volte c'è una foglia gialla ma anche tante nuove e io vado oltre brava sonia dice dopo quattro mesi di cambio lavoro con la mia consapevole consigliera tutte le domande varie con le considerazioni una volta a settimana io non riesco a ricevere tutto si blocca o ricevo solo bricele oh cosa puoi scegliere sonia inizia con la domanda cosa vorrei che somigliasse la mia vita e poi ovviamente ne possiamo parlare maria stella si ho iniziato con il 10% il 10% lo faccio anch'io dice laura e che lo usano sempre lo so si ha la tendenza di usarlo perché non si è abituati si è tremendamente scomodi se si ha più denaro di quanto siamo abituati la tendenza è se abbiamo più soldi della somma a cui siamo normalmente abituati allora siamo tremendamente scomodi e dobbiamo farli fuori tutti non a caso appena qualcuno ha più soldi del dovuto tra virgolette o gli rimangono più soldi pensa subito a come potrebbe spenderli avete presente quando qualcuno mette da parte i soldi per i giorni neri o i giorni bui quelli arrivano sempre semplicemente perché mettono i soldi per i giorni bui onorano i giorni bui madonna come sarebbe se mettessero soldi da parte per onorarvi si creerebbe sempre più onorarsi anche mia madre dice infatti anch'io ho scelto di onorarmi con il 10% elisabetta dice per me il 10% ormai è diventato un'abituire mi godo a contarli e avere sempre più soldi e di creare sempre più wow come può essere ancora meglio anch'io ho scelto il 10% fantastico e cos'altro ancora è possibile ragazzi è una scelta dopo scelta e ci saranno momenti in cui ma come io non già non ho soldi e già sono indebitato e dovrei pensare di dare il 10% di mettere da parte e non spendere il 10% dei miei introiti si piuttosto vai fuori e crea più soldi non togliere dai soldi che stai mettendo per te stesso vai a creare più soldi anche Gheri raccontava in un passaggio in un libro diceva quando i miei conti erano in rosso e la mia azienda era picco cioè nel senso i conti erano in rosso inizialmente quello che tendeva a fare è prendere in prestito se aveva bisogno di 10.000 euro o dollari quello che faceva è prendere 8.000 euro in prestito e poi cercare di crearne 2.000 da sé per pareggiare i conti e non funzionava puntualmente perché non si permetteva di mettere da parte il 10% così perché comunque li stavano mancando quando in realtà ha fatto una scelta diversa nel senso ha messo da parte cioè ha preso in prestito 50.000 euro anche se ne aveva bisogno di solo 10.000 5.000 euro l'ha messo nel suo conto 10% personale 5.000 euro l'ha messo nel suo conto per il business e ha iniziato a onorarsi e ovviamente ha restituito i soldi con molta più facilità e le cose sono iniziate a cambiare perché non aveva più il punto di vista che mi stanno mancando i soldi che non mi posso neanche permettere di mettere il 10% da parte e da lì da uno spazio totalmente diverso le cose sono iniziate a cambiare ed è uscito facilmente dal debito se onorate le bollette e le tasse per carità non c'è niente di male ma se le mettete prima di voi avrete sempre più tasse e sempre più bollette è categorico potete credermi o no ma io l'ho provato e così l'ho visto nella mia famiglia e anche per altre persone che conosco è inevitabile quello a cui date più energia più importanza diventa predominante nella vostra vita cresce come quando bagnate la piantina immaginate se se bagnaste un'erbaccia quella crescerebbe cioè mica è pazza cresce e cresce come e dice madonna ho un'erbaccia ho un'erbaccia e quindi ho un'erbaccia allora è come se la bagnaste ulteriormente e cresce ulteriormente no mi piacciono tanto queste metafore con la natura perché rendono proprio il concetto di quello che stiamo creando se vi basate cioè basate la vostra prosperità finanziaria su quel 10% che vita piccola state creando sono solo 10% delle vostre entrate uscite fuori fatene altre o siate disposti a creare ulteriormente e oltre il 10% ho creato un'altra abitudine ogni fine mese i soldi che mi avanzano li metto da parte e inizio il nuovo mese da zero così ho raddoppiato il 10% vedete ci si ingegna nel oh come posso avere più soldi cos'altro è possibile wow cosa mi diverte con il denaro mettendo se stessi al primo posto ti vengono ti vengono idee di come giocare ulteriormente come divertirsi ulteriormente con il denaro come sarebbe se il denaro fosse divertente ed è possibile lo sto creando tanta gente lo crea Elisabetta lo crea e chi tante altre persone oltre a lei quindi questi sono diciamo un grosso elemento per fare un riassunto di questa di questa direttona direttona proprio è uno essere disposti ad avere soldi non soltanto di spenderli ok onorare se stessi mettendo il 10% da parte come proprio un esercizio di onorarsi e mettere al primo posto se stessi due tre anzi guardare la vostra vita e dire ok cosa avete posticipato nella vostra vita basandovi sui soldi che non avete o che vorreste avere sceglietelo adesso e quattro e questo magari un'altra cosa molto importante è assecondare la vostra realtà e non bervi l'impossibilità o la cecità degli altri nel creare la propria vita siate aggressivi con le vostre scelte e con quello che state creando e Maria Stella dice ma poi con i soldi di questo 10% possiamo farci qualcosa e investirli quando diventa una somma interessante vedete spenderli uno dice vabbè ma li investo ah ah comunque nessun investimento è veramente sicuro piuttosto crea più soldi e investi con soldi di cui cioè che non sono così vitali come il 10% ok è come se rubassi un tuo partner commerciale un partner che ti produce un sacco di soldi e dici vabbè vai partner vola e poi magari si sfracceva al suolo quindi no non si possono non si possono spendere ma come sarebbe se fosse una scelta non spenderli oh mio dio non posso farlo quello puntualmente vi metterà in condizioni di spenderli ok quindi non fatelo e poi in realtà se vi interessa molto questo argomento del 10% cosa fare come funziona in realtà ho creato proprio appositamente a settembre dell'anno scorso una membership mensile cioè tipo un abbonamento mensile una membership dove parliamo del 10% siamo costanti con il 10% in realtà al di là del 10% si parla tanto della sfera finanziaria come crescere come togli i punti di vista sul denaro tutte le menate possibili immaginabili e si hanno davvero dei bellissimi risultati anche a livello personale questa membership ha creato tanto il mio universo nell'essere costante e aggressiva con la mia realtà tipo cazzo io sto creando questo e creo molto di più ok i ricconi del 10% si chiama così perché si è ricconi del 10% quindi siete 10 volte più ricconi al 100% è una membership molto in realtà molto abbordabile anche per la vostra mente lo so dovevo renderla più complicata l'accesso però hey costa 20 euro al mese in realtà a questo punto avrete quasi 12 mesi di contenuto ragazzi perché non è che ricominciate da zero come se non avesse alcun materiale ma avete 12 mesi di contenuto interviste sui soldi di vari facilitatori vari anche ricconi del gruppo che stanno cambiando la loro realtà con il denaro è una miniera di materiale di ricchezza quindi se volete esserci è possibile si paga mensilmente non dovete fare abbonamenti annuali scegliete mese per mese se continuate a esserci oppure no quindi scegliete voi di esserci se è di contributo Cristina dice scusa Bianca non ho capito allora ma quindi non vale l'investimento dove lo mettiamo questo 10% scoprilo puoi tenerlo ovunque l'importante è che non lo spendi ok quindi abbiamo fatto già il riassunto in realtà sarebbe difficile ripescare tutto quello che abbiamo detto riascoltatevi la live e se avete domande assolutamente posso rispondere per questo per questa settimana vi darò un gioco per casa quello di iniziare qualora non lo stesse già facendo di mettere da parte il 10% di quello che vi entra o di tutti i soldi che avete mettete il 10% da parte e fatelo per questa settimana la nostra prossima diretta sarà il 18 si suppone ok se qualcosa dovesse cambiare ve lo dico comunque in questa settimana scegliete di onorarvi scegliete di onorare le vostre finanze e scegliete di onorare la vita che vorreste creare mettendo il 10% da parte di quello che vi entra la prossima settimana affronteremo un altro argomento ripartiremo da questo vedendo cosa è venuto su per voi questa settimana le sfide che avete incontrato e così via per poi proseguire con il secondo elemento di creare ricchezza che generare versus creare soldi dovreste preferire il generare piuttosto che creare i soldi e detto questo chissà cosa significa giusto lo scopriremo nella prossima puntata intanto c'è la possibilità di aggiungersi ai liconi del 10% di questo mese il link lo posterò qui da qualche parte però assolutamente è facile quindi metterò il link nel gruppo se volete esserci è davvero una miniera preziosa sono sia interviste di facilitatori internazionali che davvero tanto materiale da parte mia tanto potenziamento tante facilitazioni davvero una miniera ok quindi se vi diverte giocare con i soldi onorare se stessi e farlo insieme ad altre persone perché magari è più facile è più nutriente lo è è più divertente per me almeno siateci siete invitati a esserci e diventare ricco nel 10% Sonia dice chi fa il 10% cosa fa questa settimana lo fai in maniera più presente lo fai con la consapevolezza di onorarti non devi fare il 10% scegli di fare il 10% ok tipo wow è come se dessi l'acqua alla piantina della tua vita e chiedetevi a cosa vorreste che assomigliasse alla vostra vita fate questa domanda e hanno affiato la vostra piantina e vediamo cosa si mostra tra una settimana in questa settimana e anche la spiegazione di frase di polizia fantastico grazie a Dani per avermi ricordato grazie a voi ragazzi ci vediamo la prossima settimana con furore onoratevi onorate voi perché siete voi i creatori della vostra vita e tutte le altre risorse incluso il denaro non può altro che sostenervi un grosso abbraccio ci vediamo la prossima settimana e divertitevi visto che ferragosto porca panetta ciao